Zip News Speciale Meteo Temperature stabili, massime tra 10 e 15 gradi Al sud piogge, qualche temporale sparso sulle regioni peninsulari in esaurimento serale Schiarite sulle isole maggiori, temperature stabili, massime tra 12 e 17 gradi È tutto grazie per l'ascolto in regia Rosario Perez Zip News Le notizie nel modo più veloce